Il Paradiso delle Signore, martedì 12 novembre 2019 Silvia si impegna duramente affinché la partenza di sua figlia sia il più serena possibile. Dal momento che Nicoletta ha negato di avere una relazione o un qualunque coinvolgimento sentimentale che la leghi a Milano, la ragazza non può far altro che fingere di essere abbastanza felice di partire con Cesare. La realtà è ben diversa e Nicoletta fa molta fatica a rassegnarsi alla realtà e non crede che resterà al fianco di Riccardo, come questo invece gli ha ripetutamente promesso. Intanto Vittorio è sul punto di girare un nuovo video a cui parteciperanno Paola e il suo misterioso marito Franco. L'uomo sembra essere in un certo senso un fantasma perché non si è mai fatto vivo e nessuno sa esattamente chi sia. Quando arriva il momento di fare la sua conoscenza durante la produzione del filmato, Franco sembra avere un contrattempo che gli impedisce di presentarsi alla registrazione. Ma Franco ha forse qualcosa da nascondere? Cosa si cela dietro la sua perenne senza?